GF VIP7, ex VIPona commenta, vorrei Nikita Pelizzon, Orana Marzoli non vincerà perché. Una ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello VIP è stata ospite di Turchese Baracchia Turchesando. Il programma radiofonico in onda su Radio Cosano Campus. Si tratta di Patrizia Rossetti, che ha parlato della sua esperienza nella casa di Cinecittà. Dicendo la sua su alcuni dei concorrenti. Grazie. Grazie. Grazie.